buonasera riccardo cristiano che ha scritto il libro vi dichiaro uniti diario lgbtqi una storia di ricerca amore e diritti civili il riccardo è il presidente anche di libri tv e quindi è più diciamo sul sul libro come veicolo sul libro come strumento a chi lo questioniamo e invitiamo chi ancora non ha letto a leserlo per avere la storia dalla z buonasera riccardo ancora il noi sappiamo che questo libro ha più di un anno è uscito a fine novembre del 19 e quindi la domanda oggi è come è stato colto questo libro e rispetto a questo vediamo quali altre domande fare prego riccardo allora grazie Giancarlo per il tempo che mi stai dedicando il libro è uscito il 24 novembre del 2019 quindi ha fatto un anno noi lo abbiamo voluto far uscire come dicevamo in passato in concomitanza dei nostri 20 anni miei e di marco anche perché poi il libro parla anche della nostra vita e il libro in sé mi ha sorpreso ci ha sorpreso anche come casa editrice perché ancora oggi riceviamo dei scontri positivi solo in termini di vendite e quindi anche di messaggi di chi ha letto il libro ma anche di presentazioni perché noi prima della pandemia avevamo previsto una cinquantina di presentazioni in tutta Italia poi è arrivato il covid quindi ci ha bloccato e siamo riusciti a fare delle presentazioni online o comunque delle piccole dei piccoli contest online ehm adesso per esempio ce ne sarà uno il quattordici di febbraio che è San Valentino sempre online quindi il libro ancora eh macina eh diciamo consensi ed è positivo ma ripeto perché il tema non è un tema che invecchia essendo eh il racconto eh della mia vita ma anche delle vite di persone che ho incontrato è un libro che dico sempre può essere letto nelle scuole può essere letto nelle università può essere letto anche tra le pareti domestiche semplicemente per eh avere una visione diversa di quello che è eh il mondo non tanto LGBTQI asterisco ma più che altro una visione differente di quello che noi conosciamo eh quindi il tre virgolette io dico tre virgolette successo del libro secondo me sta anche nel fatto che non è una storia che si conclude è una storia che mette ancora più curiosità tant'è che eh c'è chi mi ha detto ma scriverai il seguito no non c'è un seguito non ci sarà penso un seguito perché eh è un diario quindi sai un diario si scrive giorno per giorno capitano tante cose io ho voluto racchiudere in questo diario eh venti anni e sono stati difficili da racchiudere perché ho dovuto selezionare i capitoli eh per scadenziarli nel tempo in maniera eh da dare un'idea della cronostoria eh della della mia vita o comunque di quello che sono state le battaglie civili eh e ancora oggi mh sì si vende si mh ci sono i commenti che poi ti fanno piacere eh persone che non conosco quindi ho incontrato eh che ne so del nord ma anche all'estero poi il libro è andato anche all'estero quindi è bello sapere che è arrivato in Spagna che è arrivato in Svizzera che è andato in altri altri luoghi poi ti scrivono ti mandano messaggi sono carinissimi eh è bello anche eh l'interazione con i social perché poi ti arrivano richieste d'amicizia ti ti chiedono di raccontarti qualche dettaglio in più e noto questa è la cosa bella che con molte persone eh che ho incontrato eh abbiamo vissuto lo stesso percorso anche se a distanza di chilometri a distanza di anni eh dal coming out piuttosto che dalla discriminazione quotidiana o dalla non discriminazione quindi dal vivere comunque a testa alta la propria eh la propria non nemmeno sessualità io direi semplicemente la propria affettività il proprio modo di essere eh ci accomuna e questo libro cerca di creare eh quel piccolo ponte eh legato dell'arcobaleno eh verso tutte le persone che hanno voglia di eh non dico essere felici ma eh di sentirsi sereni. In questi vent'anni è cambiato è cambiato di molto il panorama rispetto alla questione essenziale che secondo me eh come dire è anche affronti già eh nella scelta che avevi fatto per la tua tesi di laurea sì 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 è cambiato di molto il clima eh direi tantissimo per esempio tu adesso hai chiamato la tesi di laurea nella tesi di laurea io eh parlo ovviamente eh mi riferisco molto al cinema dell'olocausto ovviamente eh si parla di discriminazione e si parla ovviamente eh di eh tematiche legate alla discriminazione che non è soltanto la discriminazione nei confronti delle persone omosessuali ma anche la discriminazione nei confronti della eh comunità ebraica piuttosto che della persona diversa vista eh con un occhio eh molto presso dalla paura eh del trovarsi di fronte una persona che non hai mai conosciuto quindi io non dico l'ignoranza io dico semplicemente la paura sicuramente i media hanno dato da una parte un eh un input positivo a eh aprire come terapeuta come psicologo delle paure ancestrali dentro di noi che eh se da un lato hanno spostato l'attenzione nei confronti della persona magari omosessuale o dalla persona eh come dire diversa dal canone che eh le persone etrosessuali si sono fatte negli anni eh dai settanta o tanti in poi eh però c'è una certa recrudescenza di violenza eh soprattutto anche nell'uso del linguaggio nell'uso di dei social come vengono utilizzati eh per ehm alle volte violentare proprio non solo le persone a livello psicologico eh ma proprio a livello morale perché eh io vabbè ne parlo adesso così ehm c'è sempre stato un alto tasso di suicidi tra le persone omosessuali eh ma questo avveniva in passato e viene ancora oggi secondo me la discriminazione è basata proprio sul fatto di non accettare l'altro in quanto persona che può darti qualcosa di diverso rispetto a quello che tu possiedi sì il c'è in c'è un'esigenza no in qua e là in quello che scrivi no all'inizio di una precisione linguistica che è il tuo modo d'approccio di quando cominci a scrivere per giornali eccetera quindi diciamo prendi anche per questo aspetto eh cioè eh del dell'intervento intorno alle parole dell'uso delle parole eh per eh per disegnare qualcosa e verso la fine del eh del tuo libro e dici una cosa eh interessante eh cioè è come e questo però lo affermo io è come se tu cominciassi a distinguere tra eh la come dire l'approccio o come dispositivo di vita essenziale per vivere come ciascuno no in piena libertà e è una è la prima volta che l'ho avverto e una una necessità di entrare con la precisione linguistica anche in quello che è diventato eh un linguaggio per parlare di questo a partire per esempio dalla sigla che affigge ancora eh io dico ancora però eh cioè lgbtqi e asterisco pure il c'è questa esigenza eh nel proseguimento di una come dire di un di una nuova analisi anche su questi termini cioè io non posso anche non affrontarlo eh perché io vengo da molto lontano su queste questioni e ne va appena un accenno io eh per dire così il debutto nell'ottantaquattro con una prima conferenza dove eh il titolo era la sessualità e l'innamoramento le donne come dire ho ho affisso anche le mie tre questioni del momento io comincio per una lettura eh analitica psicanalitica con la sessualità cioè che è un'enormità ancora adesso dopo trentasei anni trentasette la sessualità non è eh etero non è homo non è trans non è di non ha aggettivi la sessualità è la sessualità e e e compartimentarla anche laddove d'accordo perché è come dire la la società va in direzione del primato eterosessuale eccetera eccetera ma io ho discuto anche di questo primato cioè eh io ti dico la mia eh poi dopo se vuoi perché mi sembra pensiamo allo stesso modo eh mi risulta eh come dire mi risulta stranissimo che qualcuno per esempio possa eh eh dichiararmi eterosessuale e comincierei subito con una conferenza differente di risposta perché non è possibile cioè eh io ho avuto evidente eh una grandissima difficoltà di parola che era la boi buzie e che lo è ancora anche se tengo conferenze e adesso parlo apparentemente sciolto ma anche lì essere definito ma non tanto boi buziente ma nell'uso dei termini tecnici no disfluente piuttosto che normofluente no a me comincia è cominciata la mia analisi non la mia analisi eh psicologica no l'analisi intellettuale linguistica eccetera ecco allora c'è questa questa esigenza l'affronto a lato per me il termine eh islamofobia quindi sto parlando del termine omofobia anche islamofobia è un termine pesantissimo ma sia nell'uso pro che nell'uso contro e forse anche il termine omofobia che è su quel termine lì che accenni a a un'altra lettura che può venire ancora no rispondo anche su questo guarda perché comunque sono delle domande effettivamente che fino ad ora non mi sono state poste e mi fa piacere che tu me le voglia porre se vuoi dispondo sì sì premo premo allora per quanto riguarda l'acronimo lgbtqi asterisco ma perché metto l'asterisco perché ce ne sarebbero tanti altri orientamenti o comunque io li metto alla fine del libro ehm l'esigenza di eh di dare delle definizioni io le chiamo caselline ehm non mi sono non mi è mai piaciuta cioè a me l'idea di essere incasellato in un genere cioè gay non mi è mai piaciuta cioè questo lo dico a prescindere tant'è che c'è un bel libro io lo cito anche nel mio che è quello di Mirella eh Izzo ehm le le gabbie dei generi molto bello eh ti posso dire che eh le gabbie dei generi è un bellissimo libro eh e vale proprio eh proprio sotto questo aspetto qual è l'aspetto e che ci ci fu all'inizio ovviamente un'esigenza di eh dichiararsi come eh movimento omosessuale come movimento di liberazione omosessuale quindi era giusto che ci fossero dei termini come gay come omosessuale come lesbica e questo va va rivendicato perché è stato rivendicato in passato ed è giusto ancora oggi in alcuni contesti rivendicarlo poi io la vedo eh eh nello stesso modo che la vedevo eh dieci anni fa ovvero che noi siamo degli esseri umani poi l'orientamento sessuale o comunque l'orientamento affettivo eh non deve essere incasellato per forza io penso che fra vent'anni ma anche meno non ci sarà nemmeno bisogno di dire sono gay sono etero addirittura si parla di mh pansessualità ma poi io penso che una persona debba essere felice con se stessa senza dover eh dichiararsi gay lesbica eh etero eh per le persone trans invece la situazione è diversa perché lì eh ovviamente una persona transgender può rimanere transgender e quindi mantenere la condizione di transgender come può anche decidere di eh affrontare la il diciamo la riassegnazione allora lì poi diventa una donna o un uomo in base a eh se è F2M o M2M questo per conto riguarda l'incasellamento dei generi ecco perché dico mh l'orientamento sessuale eh definirlo è eh errato perché non possiamo mh continuare a mettere lettere su lettere su lettere su lettere ecco perché mi soffermi dall'asterismo altra cosa secondo me importante è quella relativa all'omofobia tu dicevi dell'omofobia o dell'islamofobia ok io non parlo di omofobia parlo di razzismo o parlo di odio perché comunque che sia islamofobia che sia omofobia che sia qualunque cosa è comunque un'avversione un odio che tu hai poi che venga dall'ignoranza di non conoscere l'altro o che venga dal eh essere cresciuto in un ambiente particolarmente omofobo o comunque maschilista eh e quindi magari molto chiuso e quello ti fa capire che alla fine non è la parola in sé omofobia a dire beh ok abbiamo trovato una parola che definisce un comportamento ma è il comportamento in sé che va compreso e va superato in questo caso quindi secondo me l'omofobia non è altro che ignoranza barra odio barra eh quello che comunque non viene compreso dall'altra parte capito Giancarlo quindi io non la chiamerei nemmeno omofobia perché fare magari la legge contro l'omofobia sia utile da una parte però è anche vero che i crimini d'odio dovrebbero essere puniti a prescindere che sia omofobia che sia transfobia che sia non lo so bullismo nei confronti delle persone in carne piuttosto che persone che hanno un naso brutto come il mio insomma eh penso che comunque non bisogna non bisogna eh prendersela con dei termini perché i termini servono a definire sicuramente eh delle delle situazioni ma non possono comunque condizionare un individuo a sentirsi eh eh come dire incasellato nella casellina di gay quindi dire sei gay per esempio una cosa che mi è successa io questa te la racconto è quella di dire bene adesso sei uno scrittore gay no io non sono uno scrittore gay io sono uno scrittore e basta perché ho scritto un libro e ne voglio scrivere altri ma non voglio scrivere unicamente o solamente eh del movimento gay piuttosto che eh della comunità LGBT io voglio scrivere di tutto invece ci sono per esempio degli autori che si incasellano solo esclusivamente nel eh nella casellina del che si sta anche diritti civili quello che vuoi però marciano solo in quella direzione io non sono fatto così perché a me piace spaziare io mi sento cittadino del mondo mi sento cittadino comunque della terra in generale quindi da essere umano sono curioso e quindi essendo curioso magari scriverò un libro che si occuperà di tutt'altro anzi è molto probabile eh questo è uno spoiler eh perché non mi piace stare eh come dire incasellato a dover dire eh sei gay ma a me non 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 interessa nemmeno l'appellativo di gay quello è semplicemente un aspetto della mia vita privata che poi magari posso fare anche pubblica perché comunque non ho problemi a stare con Marco alla luce del sole fortunatamente però non è eh la mia la mia vita non gira e non ruota solamente intorno alla letterina G cioè gay capito quindi io credo che è giusto che ci siano delle eh prese di posizione perché le prese di posizione sono utili soprattutto a livello politico e a livello eh civile però poi superata la parte politica e civile la vita reale quella dove viviamo tutti non ci può ghettizzare come dire frequentiamo solo il locale gay oppure frequentiamo solo esclusivamente la sauna gay frequentiamo solo esclusivamente il cinema gay cioè no noi siamo in una società fortunatamente che si sta evolvendo dove non ci devono essere delle differenze eh troppo marcate ma ci devono unire sotto il profilo della ad esempio ti ripeto della eh dell'uscita in un locale dove come a Londra accade tu vedi due ragazzi che non so due ragazzi dello stesso sesso baciarsi e nessuno storce il naso questo per me è la normalità cioè eh vedere in un locale tranquillamente eh pubblico e non designato a un genere come il locale gay o il locale etero o per famiglie cioè non c'è differenza secondo me c'è un locale deve essere un locale basta dove chiunque ci può andare chiunque se vuole scambiarsi semplicemente un bacio lo può fare indipendentemente se è eterosessuale o non lo è la la battaglia eh per eh per ciascuno te la pongo in questi termini cioè non non l'ho precisa nemmeno io adesso quindi sono obbligato a formularla non in modo preciso ancora e io avevo notato ancora trent'anni fa come negli Stati Uniti la eh eh fosse una tendenza comune e lo è ancora e lo è ancora di trovare eh come dire eh cioè quella giustizia che nella quotidianità non viene trovata in ogni ambito quindi non sto parlando di un ambito tra gli altri questa giustizia che non si trova nella vita di ciascun giorno e veniva portata nel tribunale adesso mi permetto di riformularla è sicuramente importante una battaglia e anche la mia battaglia eh per certi aspetti che eh che il diritto funzioni e che la questione e sia posta anche quindi a livello di legge e di diritti no ciò di cui ci occupiamo con 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 liberi tv soprattutto e e quindi che eh che il diritto che i diritti essenziali per ciascuno siano rispettati e quindi questa battaglia che è battaglia civile che è battaglia di estremanza civile è una battaglia non è ritengo l'unica battaglia perché non è che poi appunto la vita privata sia avulsa eh per dire così dalla questione del diritto allora io mi chiedo eh come dire il libro il tuo libro e anche oltre il gesto della eh della testimonianza civile perché non è più semplicemente che ne so un manifesto per i diritti c'è tutta la questione ma è come dire è un contributo e come dire un dispositivo in atto anche rispetto alla alla vita di ciascun giorno no c'è quel che noi facciamo in questo caso hai scritto un libro ecco quando si tende di andare alla lettura della come dire dell'essenziale per quel che mi riguarda io trovo una come chiamarla una macchina tra volte usato un termine macchina come si dice macchina del potere una macchina dicotomica di opposizioni che non finisce più sai cos'è il mio libro bene male c'è c'è anche sì beh anche tu usi il termine però mi pare sì esatto sì 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 la questione delle coppie dicotomiche delle divisioni delle opposizioni allora e c'è anche tutto un itinerario di lettura di questo beh la mia domanda prima sulla sull'islamofobia sull'omofobia su queste definizioni che sembrano e perché poi è anche quella è una coppia oppositiva non citiamo l'altro perché allora è islamofobia islamofilia omofobia omofilia eccetera ecco non è che semplicemente siano sterili io questionerei molto questa macchina dicotomica per esempio tutt'altra coppia uomo donna un'amica femminista in particolare no mi aveva fatto notare ma per sue ragioni tutt'altra che al pianeta omosessuale e intendeva sia maschile che femminile e non interessava nulla tutto quello che il femminismo esplorava nei termini di lotta alla alla questione del primato del fallo perché diceva che era messa in evidenza ancora questa questione sì ecco io mi pergo da anni su sulla questione di di questa formazione di coppie dicotomiche e e ancora prima di quelle che ne arriviamo insomma le prime due sono proprio è bene male soprattutto no che da l'agnosi che da tutte queste questioni bene male positivo negativo forse no se non un'altra poi tutte le altre per bello brutto intelligenti o la sensazione che sia lì per dire così beh è di questo che si è trattato con la shoah no si è occupato appunto insisto la shoah è come se fosse perché non lo è come se fosse una coppia dicotomica tedesco ebreo allora o tedesco o ebreo solo tedesco via tutti gli ebrei è stata gestita la Shoah come un'operazione di polizia non è stata una guerra non è stato l'esercito che si è occupato dell'eliminazione è stata un'operazione di polizia la polizia ricordo è amministrazione non è esercito è amministrazione armata non è la stessa forma ma è anche esecuzione degli ordini esecuzione degli ordini in maniera molto schietta ma poi poi lì tu quando parli di Shoah io non penso solo agli ebrei perché quelli degli ebrei sono semplicemente quelli magari che vanno più alle cronache ma ci sono per esempio ne vogliamo parlare dello sterminio degli indiani d'America oppure dello sterminio di tanti altri popoli che io ho scritto pure nella tesi e che sono stati sterminati e ancora oggi vengono sterminati perché la cosa più facile da fare quando tu vuoi affermarti come razza superiore o come essere superiore o come una persona superiore che deve predominare sull'altro tu elimini l'altro lo puoi eliminare in maniera fisica lo puoi eliminare in maniera psicologica ma l'eliminazione dell'altro avviene anche nell'essere considerato gay perché in passato veniva negato il fatto dell'esistenza della persona gay un po' come avviene attualmente in Russia se tu pensi che in Russia Putin dice ancora oggi non ci sono gli omosessuali in Russia e una volta si diceva la stessa cosa in Italia lo diceva Mussolini ma lo dicevano tanti altri che non esistevano gli omosessuali perché era qual è l'altra diciamo forma di pulizia etnica è quella di cancellare la memoria o comunque di cancellare le persone dalla vita quotidiana quindi tu non esisti ecco perché si diceva una volta relegare le persone nella camera da letto quindi fate queste cose nella camera da letto perché comunque era facile chiudere gli occhi e non vedere perché comunque faceva disgusto comunque deviava da quello che era una norma scritta magari per tanti secoli e quando invece questa norma è stata distrutta un po' anche dall'andare avanti della società dai media, dalla televisione allora lì c'è stata la visibilità ecco quello che noi chiedevamo chiedevamo l'esistenza di esistere noi chiedevamo sai adesso sì certo siamo arrivati come dicevi tu alla questione legislativa delle unioni civili noi siamo per il matrimonio ugualitario non per le unioni civili perché le unioni civili sono semplicemente un istituto di serie B che sono stati fatti apposta per una categoria di persone quando noi non siamo una categoria di persone ma siamo persone a tutti gli effetti quindi io voglio avere gli stessi diritti di un'altra persona indipendentemente perché io pago le tasse lavoro, sono un cittadino italiano e la Costituzione non mi differenzia sulla Costituzione da qualcun altro perché non è che mi crei l'istituto di serie B e dici ok per i gay facciamoli noi civili e invece per gli eterosessuali rifacciamo il matrimonio è una stronzata cioè in questo lo dico chiaramente io sono per le unioni civili cioè sono per il matrimonio ugualitario anzi abolirei proprio il matrimonio lo rifacciamo da capo quindi Marco Pannella una volta parlava di riforma del diritto di famiglia io sono per la riforma del diritto di famiglia quindi rifacciamolo quindi facciamo più snello il divorzio facciamo più snello diciamo la questione anche della filiazione perché questa non è stata trattata per esempio nelle unioni civili quindi andrebbe rifatto tutto il diritto di famiglia ecco perché il diritto alle volte uno si trova nei tribunali dici vabbè vai nei tribunali non è che ci voglio andare nei tribunali perché mi piace ci vado come singolo o come coppia o come associazione o come gruppo politico perché è l'unico modo per spingere il legislatore a legiferare perché se dovessimo ascoltare la politica la politica è indietro cioè quando noi andavamo in giro con Liberi TV questo vedevamo sulle strade vedevamo che le persone erano avanti e la politica era indietro voi vabbè ok la chiesa quello che vuoi però non è così cioè la politica la politica è indietro è un certo tipo di politica che non è soltanto a destra e non è soltanto a sinistra perché è sbagliato dire ah la destra non vuole le unioni civili e invece la sinistra le vuole io ho sentito dei discorsi di gente di sinistra che sembrano persone di destra per come sono come dire omofobi scusa adesso ti prendo il termine che non dovremmo utilizzare quindi non esiste nemmeno qua più la destra e la sinistra come non esiste più dire ah beh eterosessuale omosessuale ma di che stiamo parlando cioè vi volete rendere conto che ormai è giusto e forse si sta capendo adesso questa cosa che se tu sei eterosessuale nel senso perché sei attratto da una persona del tuo stesso posto allora non è che devi andare a sventurare i 420 per dire ah sai sono eterosessuale adesso facciamo una volta dissero l'arci etero perché è come se ci fosse bisogno perché cioè la differenza qual è è che esiste l'arci gay perché ancora oggi non ti puoi sposare non puoi che ne so adottare dei figli non puoi riconoscere i figli del partner cosa che invece a un etero ancora è concessa cioè ti puoi sposare tranquillamente puoi comunque adottare i figli del partner e se per esempio fai dei figli come dire con l'inseminazione artificiale li puoi riconoscere perché comunque uomo donna per la costituzione anche se ti ripeto la legge adesso sta legiferando anche nel riconoscimento di due donne due uomini che hanno dei figli nati per esempio con l'inseminazione artificiale o adottati perché per esempio può capitare c'è un'associazione che si chiama genitori rainbow che sono genitori che hanno avuto magari relazioni eterosessuali poi si sono come dire non tanto scoperti hanno preso coscienza della propria sessualità e quindi sono diciamo adesso in situazione omoaffettiva e hanno dei figli e quindi in quel caso che situazione è? cioè vedi che quello che io dico siccome l'evoluzione della società porta anche l'evoluzione dei costumi e anche l'evoluzione della persona stessa perché vede più possibilità rispetto a prima allora è normale che ognuno di noi non si voglia sentire incasellato in una definizione dove uno viene definito gay oppure viene definito etero o viene definito lesbico a me non me ne frega nulla della definizione a me interessa semplicemente vivere la mia vita tranquillamente cioè se uno dice sei gay va bene ok a posto sei felice sei contento adesso che mi hai definito ora che mi hai definito puoi andare avanti e puoi vivere felice cioè a me non interessa la definizione la questione è dell'impianto come dire dell'impianto che segue a queste distinzioni delle battaglie che dà che dà adito e appunto anche alla caccia alle streghe e ai maghi eccetera allora mi dovrei come dire risolvere una proposta che non che è interessante allora vai per le mie letture psi è interessantissimo accorgersi come l'omosessualità rubricata come malattia mentale alla lettera disordine mentale gli americani scrivono disorder poi noi traduciamo con disturbo ma teniamolo anche disordine perché ammette anche che disturbava politicamente l'ordine di solito è l'ordine politico e e com'è finita com'è che non è più una malattia mentale interessantissimo non c'è stato nessun congresso degli psichiatri americani che sono gli stessi che hanno fatto questo libro e che ancora incasella 400 tipi di malattie mentali erano 160 rotti 50 anni fa ma che bene incremento che fabbrica complimenti e il quindi non è stato un congresso di psichiatri che finalmente ha capito che non è una malattia e che cosa è stato beh sono state le lotte per i diritti civili negli Stati Uniti solo scendendo in piazza i dei tra virgolette detto da me è proprio tra virgolette che hanno provocato il ritrarre questa questa questo label questa distinzione no? Sì che lasciava appunto l'eterosessualità nell'ambito allora della bisognerebbe dire della binattia mentale della malattia no? Ecco a fronte anche delle 400 rimaste ma veramente occorrerebbe il movimento dei diritti civili per la cancellazione assoluta dell'alluzione di malattia mentale non solo l'omosessualità è riuscita a togliersi per una battaglia civile dalla cosiddetta malattia mentale ma allora ci vuole una battaglia civile per venire fuori dalle questioni della depressione dell'idiozia di tutto quello che è rubricato come malattia di questo business immenso che è fatto sui bambini no? Sì sbaglio che si chiama così cioè gli danno addirittura ma non solo in America è un business mondiale e poi vabbè ci lasciamo anche su una questione non è che che la battaglia del virus abbia alcuni di questi elementi dentro cioè che c'è una propaganda cioè per allora se la battaglia come si mostra oggi è per il rischio zero ci sarebbe da chiedersi perché non c'è questa battaglia per il rischio zero alcol cioè zero incidenti stradali zero cancro interessantissimo no magari perché non conviene non conviene penso alle multinazionali se facciamo questo discorso facciamo discorso così io invece stavo volevo pensare mi ha fatto venire in mente una cosa perché tu parlavi dell'ubricazione dell'omosessualità in quanto diciamo malattia mentale però lo sai che un'altra cosa di cui parlavano invece le attiviste trans della disforia di genere perché anche la disforia di genere che sarebbe la cosiddetta la malattia della mentale che permette a una persona transgender di poter affrontare il percorso di transizione a livello diciamo legale e quindi normativo cioè quindi tu se vieni diciamo inquadrato nella disforia di genere allora puoi accedere alle cure gratuitamente e quindi fare queste cure è qua però allo stesso tempo secondo me è sbagliato dire vedi puoi accedere soltanto perché sei malato ma tu non sei malato cioè in realtà una persona trans non è una persona malata cioè è una persona che come una persona gay non è una persona malata eppure in certi casi io lo scrivo nel libro adesso ti spoiler un'altra cosa del libro qual è che per poter evitare di fare il militare ho utilizzato un cavillo che se ti dichiaravi omosessuale gay durante io l'ho fatto dopo la visita di leva quindi era all'università potevi saltare il militare perché era considerata malattia mentale capisci quindi questa cosa penso che adesso non ci sia anche se non ho verificato devo dire la verità questo potremmo verificare però nel 2002 quindi non parliamo di chissà quanti secoli fa 2002-2003 esisteva questa possibilità ovvero di essere riformato e quindi di non fare il militare in quanto dichiararsi omosessuali significava appunto la la possibilità di essere riformato perché? perché era una malattia mentale quindi veniva messa al pari e di non so avere problemi di vista o avere problemi d'altra natura quindi anche la legge fino a qualche anno fa quindi anche se è stata derubricata nell'89 ma parliamo del 2002 la legge militare ti esonerava dal fare il militare se ti dichiaravi gay e io ho usato questa stupida legge per non fare diciamo il militare vi ho spoilerato un capitolo del libro ma tanto ormai è molto conosciuto quindi me lo posso permettere sì insomma ci sono queste altre analisi da condurre c'è questa questa lettura come altro dettaglio che ho colto ma in alcuni autori è scritto questa che viene chiamata oggi bisogna dire così omosessualità è un'invenzione dei primi del 1800 nel senso che non c'era prima e come allora lì possiamo anche dire così l'invenzione dell'isteria anche l'isteria l'isteria è differente l'isteria è riferita alle donne è vero l'isteria l'isteria sì poi per dire così mordono di più a questo fantasma gli uomini ma l'etimo è quello che di utero d'accordo nella definizione si vuole colpire le donne il destino dell'isteria è è sparito da DSM ma non è sparito per una battaglia diretta è sparito per rivoluzione del del femminismo e e per una connessione data anche da varie teoriche del femminismo che hanno appuntato l'attenzione sulla sulla questione ma appunto non è come dire scomparsa come un'esigenza etica come un dibattito civile ma piuttosto che avere a che fare con la continua emergenza della protesta femminile e qual è stato il destino è differente da quello dell'omosessualità l'omosessualità è proprio tolta dalla rubricazione invece è qui c'è la pausa siamo offline c'è una pausa Giancarlo si è bloccato c'è stata una pausa di un minuto è saltata la connessione a me infatti dico lo sto verificando infatti è ribloccato è ribloccato sì e dicevo appunto che la la nozione in termine isteria è se di pratto in varie altre parole all'interno del DSM e poi devo dire che tutto quello che è l'impianto antico insomma dell'ottoscientesco della psichiatria sono diventati cioè tutto è curato praticamente come soprattutto a psicofarmaci anche se ci sono tante psicoterapie ma tutto è apparentemente poi per me è curato non è la cura intellettuale quindi quelle non sono cure è curato apparentemente con sotto in termini di depressione tutti depressi vericamente vari livelli varie questioni con vari fantasmi e invece anche questa storia richiede ben altra lettura Riccardo noi potremmo parlare e analizzare per molto tempo allora io ti ringrazio di questa per questa intervista per questa conversazione e rifacciamo vedere la copertina la copertina del libro che ti fosse interessato a leggerlo il vi dichiaro uniti e tra l'altro l'edizione delle officine editoriali decreto il responsabile è Marco il compagno di Riccardo voi dite marito io linguisticamente ma guarda lo sai pure su questo si potrebbe fare una discussione perché cioè marito presuppone capito nella marito moglie mutuare diciamo dei termini tant'è che perché abbiamo preso come termini uniti te lo sei mai chiesto nessuno ce l'ha domandata questa cosa perché vi dichiaro marito e moglie non si può usare vi dichiaro cioè noi abbiamo trovato un termine anche per quanto riguardava la formula da utilizzare lì all'epoca quando abbiamo fatto l'unione civile e quindi abbiamo detto guarda facciamo prima dire vi dichiaro uniti noi siamo gli uniti ecco il mio unito è nell'altra stanza in questo momento poi vabbò dai sono semplicemente dei termini però è bello diciamo sapere che ci siano dei riconosciuti dei diritti essenziali posso semplicemente ringraziare una persona perché Marco Cappato ovviamente che ha fatto la prefazione del libro a proposito di battaglie civili è una persona che è da radicale insieme a Filomena Gallo della Luca Coscioni continuano a battersi per l'affermazione dei diritti civili in quanto tali perché i diritti civili sono tanti e sono non sono scontati perché anche lo stesso diciamo la stessa uniti civili che noi oggi abbiamo non è detto che un domani ce le manterremo perché non si sa mai come va quindi ogni diritto va difeso il diritto della carta costituzionale da quello più sciocco a quello del lavoro per esempio va difeso cioè io lo dico sempre cioè è garantito dalla costituzione ma non applicato nei fatti l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro a parole però in realtà nessuno riesce ad applicare io parlo di della politica quindi chi deve battersi per i diritti deve scendere in piazza lo dicevi prima tu ma lo deve fare perché se no rischiamo che altri ci prendano quei diritti persone sono morte diciamo per scrivere nero su bianco quello che è la nostra carta costituzionale quindi siccome nasciamo liberi e poi noi stessi ci incateniamo a delle catene che potremmo tranquillamente evitarci io dico semplicemente che bisogna prendere coscienza di se stessi e se ognuno di noi ha una battaglia portarla del tempo che tu mi hai dedicato è vero potremmo parlare per ore però ci fermiamo qua grazie a te alla prossima